Negli ultimi giorni sul canale abbiamo parlato di un interessamento della Roma per Bellanova e alcuni di voi sotto i video hanno scritto ma come fa la Roma a pagare Bellanova? Detto fatto, allora sembra che Cairo abbia fatto un valore, abbia stabilito un valore di 20-25 milioni di euro per il terzio della nazionale e appunto la Roma vorrebbe abbassare la parte fissa inserendo Zalewski nella trattativa Io ho deciso di fare questo video in primis perché è un po' che non parlo di Torino e insomma sono molto curioso di vedere come si svilupperà questo Torino tra il Gatovanoli in più perché ragazzi fatelo subito, che venga fatto subito questo scambio perché ragazzi non paragoniamo Bellanova a Zalewski Bellanova fondamentalmente ha fatto bene gli ultimi mesi della stagione 23-24 ma dopo più volte abbiamo parlato di questi suoi problemi nel curare la fase difensiva lui è una gamba, è un cavallo pazzo, corre, corre, corre ma di qualità poca ha fatto bene gli ultimi mesi del Torino questo senza ombra di dubbio ma non stiamo parlando di 18 anni, stiamo parlando di una classe 2000, 24 anni che è nazionale, onestamente non lo so per quale motivo sicuramente per caratteristiche perché comunque la corsa ce l'ha però piuttosto che un Bellanova io preferisco 25.000 volte Cajode più giovane, anche lui cavallo pazzo Cajode ex sale offensiva ma più focalizzato rispetto a Bellanova e al Torino andrebbe Zalewski ragazzi pacchettino servito alla Roma ne prendetevi Zalewski in primis perché lui sì che è un giocatore abituato a giocare su entrambe le fasce che poi tra l'altro adesso parlando di Zalewski in un video dove vi ho parlato sempre della Roma di Scamacca o meglio di Scamacca vi ho parlato del superiore della Roma ho fatto un errore perché avevo parlato nei giovanissimi nazionali che c'era Zalewski se non ricordo male e non è assolutamente vero perché Zalewski in 2002 io ho pensato a Zalewski ma mi riferisco a quel Dario Vittorio Meadows che dopo il 2018 si è tirato si è dato alla musica elettronica e mi ricordavo il cognome straniero ma in realtà con Scamacca le giovanissime nazioni della Roma tra il 2014-2015 più o meno non c'era Zalewski ovviamente un 2002 bensì Midos ma torniamo a noi Zalewski lui sì che è abituato a fare il terzino a fare l'esterno a giocare a destra a giocare a sinistra metti caso che Vanoli voglia cambiare una partita a mettere il 4-3-1 Zalewski ha fatto in ato come esterno offensivo giovane e ricordiamo sempre una cosa che lui a 22 anni compiuti in gennaio conta più di 106 partite con la Roma alla sua età a Bellanova a 22 anni ne contava 32 31 col Cagliari e una con l'Atalanta dopo primavera Milan e la brutta esperienza al Bordeaux basta stop Fertich ovviamente a contare a Bellanova le 31 più quella dell'Atalanta più quella della scorsa stagione con il Torino però capite bene che Zalewski ha molte più presenze nonostante è cascata la cuffia nonostante abbia comunque due anni in meno e questo dato non è assolutamente da trascurare Zalewski è uno che ha giocato l'Europa è uno che ha esperienza magari al Torino con un Vanoli può crescere molto e vi dico e vedendo gli excursus di Vanoli non escludo che Zalewski può essere utilizzato anche come mezzala offensiva in alcune situazioni perché Vanoli a Venezia le ha fatte queste robe Elerson era un esterno offensivo e con Vanoli ha giocato sia tornante tutta fascia che mezzala offensiva quindi avere un giocatore come Zalewski che ha un po' le caratteristiche simili diciamo così a Elerson non sono giocatori uguali perché appunto Zalewski nell'andare nella carriera ha retratato il suo baricentro mentre comunque Elerson l'ha retratato anche lui ma è sempre stato un po' più attaccante di Zalewski non escluderei magari che in determinate occasioni Zalewski potrebbe essere l'Ellerson del Torino quindi il Torino mettiamo caso che a Roma valuti Zalewski 12 milioni di euro mettiamo il 50% sui 25 milioni di euro di valore totale il Torino ne prenderebbe 12 circa 13 12 Zalewski più 13 fa 25 mettiamo 12 milioni andiamo a ribasso 12 milioni guadagni per l'accesso di Bellanova ma tu con 12 milioni puoi fare anche altri investimenti magari puoi andarti a prendere quel Wellington aspettiamo sempre perché poi eventualmente farò anche il video ma voglio aspettare ancora un po' puoi andarti a prendere quel Wellington o magari puoi decidere di investire su un bel bomberone e magari sommare quei soldi se magari vendi anche per l'Eiro per l'Eiro Sanabria intervini anche in attacco perché dovrai intervenire in attacco quindi questi tesoretti ragazzi noi avevamo fatto il calcolo nell'ultimo video parlando di Torino di 60 milioni quindi buongiorno ceduto insieme a Bellanova ma comunque qui stando sempre in quel computo non ne avresti più 60 bensì attorno alla cinquantina spicciolo più spicciolo meno ma con un Zalewski e lui secondo me in un'ottica Torino sarebbe un super acquisto funzionale e fatto bene quindi cari tifosi del Toro mi auguro per voi che Vagnati chiuda questa volta date via Bellanova date via Bellanova Bellanova una cosa sa fare correre in campo aperto ha un bel passo e non lo prendi ma ha dei limiti tattici e tecnici che fanno paura e avere uno come il 2002 della Roma appunto Zalewski oh santi Dio manna dal cielo manna dal cielo sì ha fatto pochi cross perché in 106 scusate pochi assist perché in 106 partico da Roma se non ricordo male 9 assist ma lì ha giocato anche più indietro perché con il giocatore prima da Roma che era più alto in campo ha fatto 6 gol che assist ma vediamolo come quinto è vero ha fatto pochi assist ma può crescere ragazzi a 22 anni con 106 partite sulle spalle a Roma un anno a Roma conta tanto o meglio 106 presenze alla Roma anni a Roma contano tanto tu impari molto anche se hai 22 anni hai quel DNA magari dei giocatori con i quali ti sei confrontato con i quali sei cresciuto assolutamente assolutamente spero che il Torino faccia questa operazione in ottica Torino in ottica Roma ci pensi due volte liberami di Zanevski a meno che non sia proprio dei rossi che non ci punti magari magari lì vede più nel Sharawi vuole bilanciare magari che ne so a destra mette uno come Celi un po' più terzino ma dall'altra parte mette il Sharawi magari a sinistra mette uno un po' più terzino e a destra mette un po' uno nel Sharawi sempre lui quindi magari è anche un dei dei rossi magari in non puntare appunto su Zalerski in ottica Roma dispiace perché è un CTP quindi va a perderti un 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 giocatore per la lista di campionato eventualmente comunque anche di lista delle coppe però ragazzi la vita è fatta di scelte e quindi Roma se vuole Bellanova è chiamata a fare una scelta il Torino non ha scelta cedere Bellanova e prendersi Zalerski fatemi sapere qui sotto nei commenti come vedete questo ipotetico interesse vi mando al bacione e ciao al prossimo video ciao ragazzi